Su di giri amici sportivi e bentornati a Chiedi al Bardo, l'unica video rubrica che risponde alle vostre domande sul wrestling. Oggi mi chiederete cosa ne pensi di Stephanie McMahon? Beh, la mia risposta non può in alcun modo allontanarsi da quello che ho visto in America, partecipando a ben due edizioni di Wrestlemania come telecronista sul posto. E Stephanie McMahon l'ho intervistata, l'ho intervistata, ci ho parlato e l'ho vista lavorare nel backstage. Allora, innanzitutto mi è sembrata una donna paziente. Una donna paziente è molto disponibile perché i media dei, anche se sei una dei capi, sono mostruosamente stressanti. E lei chiaramente era una delle voci più richieste. Siamo a ridosso di Wrestlemania, un paio di giorni prima, ci sono giornalisti da tutto il mondo. Dall'America, dal Canada, dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia, dal Giappone, dall'India, dall'Indonesia, dall'Iran. Cioè, veramente da tutto il mondo. Dal Medio Oriente, dalla Russia, ovviamente dal Regno Unito, dalla Spagna, dal Portogallo, dal Brasile, dal Peru. Cioè, c'è una confluenza. I giornalisti a Wrestlemania pazzesca. E ovviamente nel Mediadei, diciamo, dei VIP, ovvero dei combattenti più importanti, Stephanie McMahon è presente alla pari dei John Cena, dei Seth Rollins, dei Roman Reigns, dei Chris Jericho. Insomma, dei nomi più forti che ha da offrire la WWE. E star lì a parlare, essere gentili con tutti, fare un sorriso, ma soprattutto, in qualche modo, collegarsi, creare un legame reale e non semplicemente lavorativo, non è così semplice. Stephanie ha questa capacità. Ad esempio, il mio inglese è un po' zoppicante, mi sono messo un po' a scherzare con l'ed, è stata al gioco. Ho notato che capiva che, effettivamente, il mio inglese è sentito, compreso, è ottimo, mi ha parlato e così così, e mi ha dato una mano. E me l'ha data per migliorare quanto potevo portare a casa come intervista, ma anche perché è un ruolo suo, specifico, il mettere tutti a proprio agio. Io devo dire che mi sono sentito molto bene. Tra l'altro, lì c'era un'altra giornalista che faceva domande, ma in realtà era il mio turno, però essendo io bardo, gli ho dato la priorità. Anche a costo di rinunciare a un po' di tempo che doveva essere concesso a me e alla nostra truppe. Questo Stephanie, secondo me, l'ha visto, l'ha compreso, gli è piaciuto e, per certi versi, mi ha remunerato dandomi poi delle risposte, anche su Bruno San Martino, o su Dusty Rhodes, molto, molto interessanti e non raffazzonate e concludenti in poche righe. Quindi mi è piaciuta molto, mi ha dato una bella impressione di sé, di una donna, dicevo, paziente, sicura, ma anche decisa. Una donna che sa cosa vuole, perché poi nel backstage, quando c'era, soprattutto a Raw, perché a Breast Almenia, non è che l'abbia incrociata molto, ma nel Raw successivo, che ho commentato a Bordo Ring per due volte, la vedevi interagire, discutere. Io l'ho vista anche entrare in una porta insieme a Tripolet, c'è ad altri dirigenti e credo stessero festeggiando, perché si è sentito un urrà, un urlo di gioia, e credo che fossero arrivati i dati di affluenza, di vendite, di biglietti, di merchandising, di indotto correlato di Breast Almenia, quindi era particolarmente su di giri. Vi dicevo, i Raw successivi a Breast Almenia, l'ho sempre vista indaffarata, un computer al lavoro, insomma, voi pensate che siano lì dietro a far niente, che dicano tu vinci, tu perdi, e si è finita lì? No, è uno show televisivo dai ritmi serratissimi, con un sacco di pause pubblicitarie, e di segmenti che devono intersecarsi perfettamente. Ovviamente a volte non tutto va liscio, ma affinché la percentuale di errore sia il più bassa possibile, ci vuole un lavoro certosino, dall'ultimo dei ministieranti, sino alla testa del drago. E lei è lì, nella cabina di comando, insieme ad altri, a far girare tutto come organizzatrice. Quindi non si sporca magari le mani con le cose più pesanti, ma se le sporca intellettualmente, che è difficile, uguale, credetemi. Anzi, se le cose poi prendono una brutta piega, è più facile che il blame, che la colpa sia di chi ha organizzato, che di chi ha eseguito ciò che l'organizzatore gli ha detto. Io l'ho vista anche a Breast Almenia a provare. Vi ricordate qual'entrata con lei sopra, in alto, che parla e poi arriva a Tripolace? La provava nel pomeriggio, l'ha provata un paio di volte, due, tre volte. E sotto c'era il padre, Vince McMahon, c'era Tripolace, gli davano dei suggerimenti, provava le espressioni, provava il tono delle parole, lo stadio era chiuso, quindi nessuno poteva entrare. E anche lì, con un sole abbastanza cocente, lei era fuori a provare, come tutti gli altri, quindi nessun trattamento preferenziale, anzi, io credo più degli altri, perché sei un leader se dai l'esempio. Su Stephanie ci sono in giro sul web tante storie, alcune positive, altre negative, alcune di ex datori di lavoro che non sono contenti, alcuni ex writer di SmackDown che denigrano le capacità e le competenze. Io non so né confermare né smentire queste cose, ma so quello che ho visto. E ho visto, come vi dicevo, una donna che sa fare il suo mestiere, una donna sensibile, ma anche una donna che conosce a fondo il meccanismo WWE e che è pronta, eventualmente un domani, a portarlo avanti insieme al marito. Sarà lei? Saranno loro? Non lo so. Però l'impegno, la caparbietà e anche il capire che i social media e le attività di beneficenza e il marketing in un certo modo sono il futuro della WWE, io credo che sia anche in buona parte merito suo. In conclusione, come curiosità, sempre prima di uno dei Raw che ho commentato live dall'America, l'ho vista anche come madre perché c'erano presenti le sue figlie nel palazzetto che stavano giocando con Natalia che insegnava loro qualche mossa basilare poco pericolosa, mi raccomando. Questa è da mettere per iscritto e da tenere a mente veramente poco pericolosa di wrestling sul ring. Proprio le basi, ma le basi più stupide in assoluto con la supervisione costante fisica di Natalia. E gli ho visto anche Stefani, madre che gioca con le figlie, che ride, che scherza, che lancia loro degli sguardi di complicità. Insomma, che finalmente dopo lo stress di giorni pesanti, intensi e fondamentali per la compagnia può anche un attimo mollare gli ormeggi, eppur, se tra tante cose da fare, riesce a ritagliarsi un attimo per stare dietro alla sua prole. E mi è piaciuto molto anche quel momento lì che sono riuscito a entravedere, ne parlo, in uno dei nostri libri scritti in italiano, intorno al ring, che ho scritto con Luca Franchini. Discutiamo proprio di quell'istante in cui Stefani, che abbiamo visto severa, incessantemente all'opera, quasi perfezionista sino al midollo, improvvisamente torna madre e può concedersi un po' di tenerezza ecco con le sue figlie. Bene, questo è quello che penso io di Stefani Magmeon, che ovviamente è diverso da quello che vi dico in Telecronica, quando il suo ruolo ovviamente è quello di essere una malvagia, una cattiva, un'arpia detestabile, quindi le devo puntare addosso il dito e per esigenze di storia la devo in qualche modo contestare o a volte denigrare. Qua sotto, nei commenti di Tarroventi, potete lasciarmi i vostri commenti, appunto, le vostre opinioni, i vostri stati d'animo, le vostre sensazioni su Stefani Magmeon, ovviamente con educazione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se volete aiutarmi a rendere sempre più noto, potente e famoso il canale, condividete il video stesso su uno dei vostri social network. Ci mettete un attimo, probabilmente se siete qui vi piace il wrestling o la WWE, è possibile che sui vostri canali Facebook, Twitter, Instagram, ci siano altri fan come voi, fate un condividi, ci mettete un attimo e magari qualcuno arriva e mi scopre. Se lo fate, grazie di cuore perché il passaparola forse è il modo migliore per aumentare sempre di più. Per oggi direi che è tutto, ci vediamo sempre solo qui con Chiedi al Bardo. Ciao!